Per l'emergenza no, ci mancano qualche giocatore, siamo gli inventi, 15 della rosa più due ragazzi e i portieri, qualche problema ce l'aviamo, stiamo bene, andiamo a giocare. No, quello che ci siamo detti tutti, abbiamo fatto una buona partita e basta, finisce lì, adesso ce ne sono tante altre, è inutile ora pensare a quello che poteva essere, però credo che abbiamo fatto una buonissima partita. Ti senti in grado, secondo te siamo in grado di andare a riprendere? No, sinceramente a me del Livorno non mi interessa, noi pensiamo alla nostra partita e quindi siamo concentrati solo sul lanciano, quello che fanno gli altri non interessa, quindi dobbiamo recuperare, fare bene e pensare che è ancora un cambiato lungo. Siamo un po' i carmi del mio giocatore, giocano bene, vengono da una serie di risultati positivi, quindi partite facili non ce ne sono, sappiamo che si aspetta una tapparia difficile come credo che aspetteranno tante altre squadre, è un campionato difficile e credo che il trend è sempre quello lì. Cioè il fatto che facciamo fatica a segnare, a realizzare, insomma, cioè come stai affrontando più da allenatore a questi momenti? Ma con molta serenità, bisogna soltanto lavorare, lavorare un po' anche nello specifico, quello che abbiamo fatto anche queste poche ore che abbiamo fatto di allenamento perché stiamo giocando venerdì, però con molta serenità. Ci sono questi momenti e bisogna che passino, ma non è che passano perché devi far sì che passino, quindi sicuramente devi andarti a cercare qualcosa in più, quello che ho detto un po', si parla sempre del reparto, però insomma in generale coinvolge sempre tutta la squadra, è chiaro che è una squadra che gioca, costruisce e adesso qualcosina non sta portando a casa, però siamo molto sereni. Grazie a tutti.